Cosa fare se ci sono cattivi odori nella lavatrice? Se anche dopo aver fatto la pulizia cestello la tua lavatrice continua ad emanare cattivi odori, una delle possibili cause può essere proprio la guarnizione. All'interno della nostra guarnizione abbiamo questi tre forellini. Bisogna sempre accertarsi che questi forellini siano liberi. Bisognerà anche spostare il bordino della guarnizione e verificare se al suo interno si sono formate delle melme, che purtroppo non sempre si riesce ad eliminare con la semplice pulizia cestello. Bisognerà pulirla a mano. Consiglio sempre a fine di ogni lavaggio di asciugare la guarnizione e lasciare un po' la porta aperta per evitare la creazione di muffe. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale. Grazie per la visione!